Musica Finalmente Giro Marcando! Riparte la quinta stagione televisiva dove sarete insieme a noi alla scoperta di borghi, castelli e città. Un viaggio da fare insieme per raccontare la ripartenza delle marche attraverso il territorio, le persone e le aziende. Musica In questa stagione parleremo anche di misteri, di simboli nascosti. Cammineremo insieme alla scoperta di una versione poco conosciuta della nostra regione, ma sicuramente affascinante. Un giro tra gli eventi più belli, nella tradizione che diventa spettacolo, senza dimenticare la gastronomia, i vini e i prodotti tipici del nostro territorio. E magari cucinare qualche ricetta originale per riscoprire il gusto di stare insieme. Musica E ricomincia la voglia di viaggiare con Giro Marcando! Giro Marcando!